Follia in strada, manovra pericolosa rischia di causare un incidente, automobilista aggredito. Nel video si può chiaramente vedere il conducente arrabbiato danneggiare l'altra auto, rompendo persino il vetro. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. In un video che è rapidamente circolato sui social media, è stato catturato un momento di estrema imprudenza stradale che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. L'evento ha avuto luogo quando un veicolo, appena uscito da una stazione di servizio, ha improvvisamente tentato di effettuare una manovra estremamente pericolosa. Si è diretto verso la corsia opposta, mettendo a repentaglio la sicurezza del conducente di un altro veicolo che è stato costretto a frenare per evitare una collisione imminente. La tensione è salita alle stelle quando il conducente dell'auto coinvolta nella manovra pericolosa è sceso dal veicolo ed è passato all'aggressione fisica nei confronti dell'autore dell'incidente imminente. Nel video è evidente l'ira del conducente furioso che ha danneggiato l'altro veicolo in un eccesso di rabbia, arrivando persino a rompere il vetro con una violenza sconcertante. Questo incidente ha sollevato numerose preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale e alla gestione dell'ira al volante. La necessità di attenersi alle regole stradali e di mantenere la calma in situazioni stressanti è emersa chiaramente da questo episodio, che è diventato virale sui social media, servendo da monito sulla pericolosità di comportamenti così temerari e violenti sulle strade. La notizia per il momento è solo per il momento termina qui. Se non lo avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social, troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.